Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami in bilancia tendenze energetiche generali per la seconda parte di giugno 2023. Uh, abbiamo la carta degli amanti, amici della bilancia. Queste le guardo ma non le raccolgo. Giudizio e Papa. Direi periodo di risveglio, periodo di riesame. Quando c'è la carta degli amanti si può parlare di una nuova relazione romantica ma anche semplicemente di un equilibrio nella vostra vita o potrebbe anche fare riferimento ad una scelta che potreste essere portati a fare nella seconda parte parte di giugno. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuona se nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e venere e se non sapete come unire questi tre oroscopi trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire più oroscopi, come trovare l'ascendente, insomma è una guida. Sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e anche il link ad un video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonamenti. Dunque ragazzi, cominciamo con la carta della morte. Il giudizio che era già uscito nelle carte prima, l'imperatrice, il dieci di spade al contrario, un asso di coppe, andiamo a vedere come terminiamo, un asso di spade, poi qui abbiamo un cavaliere di coppe, un re di bastoni e il sette di coppe. Wow! Interessante! Allora, devo dire che con la carta della morte qui e anche la carta del giudizio tra l'altro, sono tutte e due al contrario. È come se si arrivasse dalla metà di giugno più o meno, o dalla seconda settimana di giugno, con una sensazione di bisogno di rinnovamento, bisogno di chiarezza mentale, bisogno probabilmente anche di tagliare con certi atteggiamenti, certi modi di vedere le cose, anche certi modi giudicanti nei confronti degli altri. Ricordo che gli amanti parla di amore anche in generale, quindi è proprio il giudicare meno l'altro, imparare ad avere più amore, più compassione nei confronti del mondo in generale. Essere un po' più madri. Giustamente abbiamo l'imperatrice che fa riferimento all'archetipo della madre, quindi è un po' come se si volesse o se ci fosse la necessità di abbracciare un po' di più gli altri, il mondo esterno, quello che vi succede. Tenete presente che quando c'è il giudizio è il contrario perché non si è consapevoli di qualche cosa, di qualche dinamica, non si vede qualche questione, qualche situazione, insomma. Abbiamo poi anche questo dieci di spade che guarda caso è l'arcano minore della morte, quindi c'è proprio un ciclo che o sì o sì bisogna chiudere. È la carta della rinascita al giudizio e anche la morte la carta della trasformazione. È come se ci fosse stato, se dovesse esserci una sorta di rinascita, di rinnovamento. E vi confesso che potrebbe anche essere abbastanza impegnativo, ma perché avete il dieci di spade che pesa, come vi posso dire. direi che è una morte di qualche proiezione, di qualche modo di vedere distorto. Terminiamo poi con l'asso di coppe, l'asso di spade e il cavaliere di coppe con in aggiunta queste due carte, ma le andiamo direttamente a vedere dopo con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla carta della morte, al contrario, vediamo che imperatrice nuovamente e regina di bastoni. Allora, qui ragazzi, per qualcuno può essere il fatto di non riuscire a lasciare andare una persona o una relazione in particolare. Potrebbe essere proprio la mamma. Magari per qualcuno è mancata recentemente la mamma e c'è questa difficoltà a elaborare il lutto. Può anche essere che qualcuno sia diventato recentemente madre e ci sia un attimo di, come vi posso dire, prendetelo tra virgolette, di momento di panico per questa nuova realtà. Andiamo a vedere il giudizio. Sette di coppe. È come se non si vedessero delle possibilità. o non si vedesse in modo chiaro la realtà e quindi certe possibilità siano in realtà solo illusioni. Il giudizio è sempre una carta che parla di possibilità, sì, ma sono da valutare sempre bene. Infatti poi è venuto fuori anche la sacerdotessa. È come se avessi bisogno di uscire dalla dualità, ragazzi, uscire dal giudizio, uscire dalla scelta, giusto o sbagliato, semplicemente amare. Ve lo dico perché c'è la carta degli amanti. Anche la carta degli amanti, soprattutto nei tarocchi marsigliesi, è raffigurato come un giovane con due figure femminili. Una di queste rappresenta la madre e l'altra rappresenta la persona di interesse, il nuovo amore. Quindi qui ci potrebbe davvero essere un cambio di routine per qualcuno tra quello che è la famiglia di origine e la famiglia che si vuole andare a creare. Però con la carta della sacerdotessa è come se vi dicessero andate oltre il giudizio, non vi mettete a giudicare cosa è giusto o cosa è sbagliato, semplicemente prendete atto del fatto che una determinata questione c'è e le possibilità o barra illusioni che si possono creare intorno a questo modo di vedere la situazione. Andiamo a vedere l'imperatrice, abbiamo un sei di coppa al contrario e un papà. Io credo che qui faccia anche riferimento, se per esempio per voi vibrasse come una stesa di lavoro e quindi ci fosse la difficoltà magari a lasciare un ambiente di lavoro piuttosto che a contrastare una persona all'interno dell'ambiente di lavoro, vi dico che questo tipo di atteggiamento potrebbe essere portato dal fatto che avete bisogno di essere riconosciuti, avete bisogno di salire di uno scalino, avete bisogno di raggiungere l'obiettivo che vi eravate prefissati. Andiamo a vedere dieci di spade. Due di coppe al contrario. Asso di denari e torre. Allora, la cosa interessante è che da qui in avanti sono tutte carte super positive e avete ben tre assi, ragazzi. Il punto è che bisogna passare da questa torre, da questa morte, da questa separazione, questa rottura di compromessi, che possono essere compromessi che vi siete fatti durante l'infanzia o che avete fatto qualcuno durante l'infanzia. Per qualcuno, ragazzi, vi dico che qua c'entra una famiglia, perché qui abbiamo l'imperatrice che è l'archetipo della madre, il matrimonio rappresentato dal papa e i figli, le relazioni di lunga data, i sogni dell'infanzia in quanto all'amore romantico, sono un po' espressi in questa fase della lettura. Però è come se doveste, perché quando c'è la torre c'è sempre una caduta dell'ego. Quindi è come se ci fossero certi compromessi, certi accordi, certi legami che dovete in qualche modo ridimensionare, resettare per riuscire a ripartire, a concretizzare quello che è il vostro sogno. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Perché c'è un inizio a fine giugno. Fante di pentacoli, tre di bastoni, quattro di spade. Ho come la sensazione che da l'ultima settimana di giugno, quattro di spade, cavaliere di spade, iniziate a volervi più bene, a occuparvi di più di voi stessi, a essere più determinati. Guardate, ho anche la sensazione con questo cavaliere di spade che qualcuno potrebbe, se non è la vostra determinazione, qualcuno potrebbe arrivare nell'ultima settimana di giugno, tenete presente che avete comunque di base la carta degli amanti, potrebbe essere una nuova persona che conoscete in un ambito terapeutico, vi direi. Quindi o in qualche clinica di riabilitazione o in qualche posto dove si pratica spiritualità, in qualche centro meditazione, mi parlano di centro buddista. Asso di spade. Nuovo inizio del cuore, nuovo inizio della mente. L'asso di spade parla sempre di verità, di chiarezza mentale, di cose che vengono a galla. Tenete presente che la spada taglia i pensieri nebulosi proprio per portare chiarezza. Tre di spade. Cavaliere di bastoni. Ragazzi, qui c'è una sorta di guarigione nella seconda fase della lettura. Però voglio proprio andare a vedere anche questo cavaliere di coppe perché, o come la sensazione, perché avete tre cavalieri, quindi sicuramente c'è un nuovo affetto, ok? Che poi sia nell'ambiente di lavoro per qualcuno, cioè magari è semplicemente una collega o un collega che vi sta particolarmente vicino, piuttosto che è proprio una nuova relazione d'amore che magari all'inizio nasce come un'amicizia fatta, magari anche durante un viaggio, durante un ritiro spirituale o qualche cosa per lo stile, dove all'inizio c'è un'affinità magari empatica, dopo inizia a esserci un'affinità anche mentale e la chiarezza, diciamo, di pensieri. E dopodiché terminiamo con, mi viene da dire, la nascita di un nuovo entusiasmo. Tenete presente che qui avete Regina di Bastoni e Re di Bastoni. Comunque ragazzi il punto è che questo cavaliere di coppe, allora può rappresentare voi o un'altra persona? Se siete voi è come il datevi un'opportunità, datevi un'opportunità per riprendervi in mano al vostro potere personale. Può anche essere che voi facciate un'offerta, ma sinceramente, se non è un'offerta a voi stessi, la vedo molto come una nuova offerta che arriva. Se fosse, ragazzi, se foste in cerca di lavoro, ipotesi, con questo 9 di Pentacoli potrebbe esserci un lavoro di tipo dipendente che arriva, che vi offriranno. Però è come se dovesse effettuare un viaggio, un certo tipo di percorso che vi darà la possibilità di conoscere questa persona. È un po' come se all'inizio ci fosse questo sentimento di non sono vista, non sono visto, non sono riconosciuta, vorrei poter fare di più della mia vita, vorrei potermi espandere, poter essere prospera, prospero, poter diventare madre, piuttosto che crearmi una famiglia, compiere con il mio sogno, avere quell'aumento di ruolo, però è come se ci fosse appunto qualche cosa che, ripeto, a me sembra molto una promessa che avete fatto a voi stessi, o comunque dei legami, dei pensieri che un po' vi vincolino, qualche cosa che non vedete probabilmente, o come state giudicando le cose. Però guardate, una volta che muore questo tipo di pensiero, questo vuole cadere per forza, asso di coppe, una volta che muore questo tipo di desiderio egoico, di pensiero, di struttura mentale, qui ci sono solo assi, eh? È come se l'energia cambiasse a fine giugno, ragazzi, fatemelo sapere poi nei commenti. Vi ricordo che comunque qui avete anche un re di bastoni e un cavaliere di coppe, è come se ci fosse una, di nuovo, una ripresa del potere personale, e si aprono una serie di possibilità, amici, della bilancia. Andiamo a vedere ancora un koan, vediamo come vogliono chiudere la lettura. Fa quello che vuoi e non perché devi. Fai quello che vuoi per amore, non per dovere. Quando si dà per amore puro, per amore sincero, senza l'aspettativa di avere qualche cosa in cambio, senza l'aspettativa, che neanche ci dicano grazie fondamentalmente, cioè per il puro e semplice di dare. Quello è un modo di, in realtà, sì, si dà, però è anche un modo per nutrire se stessi. E qui è un po' come se vi dicessero, se non siete più in una situazione, insomma, che vi lascia liberi, che vi crea comunque qualche tipo di sofferenza, cercate di capire che cosa fate, che cosa il vostro ego, mi verrebbe da dire così, vi intrappola a fare per educazione, o perché avete bisogno magari di essere accettati, quindi fate anche quello che non avete voglia di fare per paura di non essere accettati dall'altro, cose di questo genere. Frase molto interessante, ragazzi, meditateci su, scrivetemi nei commenti se vi risuona. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per navigare meglio le energie del prossimo periodo, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete condividere, potete iscrivervi al canale, potete fare una donazione o anche abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è molto importante, di fatto ringrazio le persone che sostengono il canale continuamente, io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!